Sì, ti sento, scusate. Che è la parte? Adesso stiamo facendo uno snap, adesso ci appiccichiamo il testo, eccolo qua. Questa sera alle 21 siamo su Italia 1 per Green The Noise. Come dici una parola, io una parola. Barbie. Faccio questa roba e ti parlo delle Barbie, cabra, 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 come Vittorio Scherzi. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Green The Noise. Come on, come on, turn the radio on, it's Saturday, and I won't be long, gotta paint my nails, put my right heels on, it's Saturday, and I won't be long, till I hit the dumpster, hit the dumpster. I got all I need, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you baby, just you and me. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight, I won't change girls. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight, I won't change girls. Baby, I won't change girls, it's Saturday, and I won't change girls. Baby, I won't change girls. Baby, sii sei...